Ancora un servizio delle Iene sulla ferriera di Trieste, dentro l'altra Ilva, l'ha titolato Nadia Toffa, al suo terzo servizio in città sul tema. Anche questa volta però le risposte che le sono state date non sono state esaustive. Anzi, l'amministratore delegato di Siderurgica Triestina, Andrea Landini, ha evitato delle domande e una richiesta in particolare, quella di poter accedere all'Alto Forno, per vedere, seguita da Romano Pezzetta, che per 30 anni ha lavorato proprio all'interno della zona più inquinante dello stavimento di Servola. Dopo un riassunto del precedente servizio, la Iene e il suo accompagnatore sono stati accolti dalla D. della Siderurgica Triestina, che aveva invidato Nadia Toffa, a cui era stato garantito l'accesso allo stabilimento per approfondire attraverso una visita, con il solo vincolo del rispetto delle condizioni di sicurezza. Proprio questa sicurezza è il motivo per cui all'inviata viene vietato l'accesso però all'Alto Forno. Un operaio aveva predetto la risposta. Anche questa volta nulla di fatto, dunque, ma sempre la stessa promessa fatta dal sindaco Cosolini e dal presidente Seracchiani. Rivediamoci a dicembre, ha chiesto Landin, che in molti momenti dell'intervista è rimasto senza parole, balbettando, incalzato dalla Iena. Peccato però che solo qualche giorno più tardi il Cavaliere Arvedi ha spostato tale data ad aprile. Insomma, pare chiaro che la volontà sia quella di prendere tempo, di attesa, ne non si sa qualche cosa. Nel frattempo, precisa Nadia Toffa, la gente continua a respirare veleni e si continua a discutere. Se concedere o meno l'AIA, l'autorizzazione integrata ambientale.